Giorni, forse ore di attesa per il Brindisi, in vista del prossimo 30 giugno, quando la COVISOC, l'organo di controllo della Lega Pro, si pronuncerà sulle 59 domande di iscrizione presentate per il prossimo campionato di Serie C. Ovviamente l'organo di federazione si esprimerà su tutte le società sulla documentazione presentata e confermerà o meno la missione al prossimo campionato. Tra queste ovviamente anche il Brindisi. Nelle scorse ore c'era stata apprezzione e preoccupazione da parte dei supporters bianco-azzurri e la Curva Sud, in un post pubblicato su Facebook, ha voluto dire la sua schierandosi apertamente insieme alla famiglia Arigliano e alla dirigenza brindisina e ha spiegato di aver scelto di sostenere il presidente Arigliano nella consapevolezza degli enormi sforzi qui in cui compiuti e dell'amore per la maglia e per la città. La nota conclude. Il Brindisi calcio nei professionisti, andrà avanti con loro e noi al loro fianco. Questa la netta e chiara presa di posizione della Curva Sud Michele Stasi. Intanto la società ha annunciato una conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 29 giugno alle 16.30 presso la sede del Cascarano Store di Taranto per presentare la rinnovata partnership tecnica con la società Mizuno.